Ciao ragazzi! Ma come lo trovate così in giro in questa giornata di salute? Beh, scusate! Cosa parte da queste parti? Certo, non male! Ma cos'è il Frozen Kiss? Ma il Frozen Kiss non lo so... Allora no, si lo so... Allora è un evento organizzato da Verona Pride per manifestare l'amore e l'uguaglianza dei diritti anche LGBT Cioè? LGBT Cioè è lesbo, gay, transgender, visex e chi più ne ha più ne merita E noi? E voi? Ancian parco! Vici, no! Spriz buonissimo! Se volete vi ci posso! Ma potete baciarvi anche voi! Ma certo! Ma certo! E ovviamente vi aspettiamo il 14 febbraio nelle piazze di Verona Qui vi potete venire a baciarvi! Bisogna iscriversi! A baciarvi! No, non bisogna iscriversi! No, no! Potete venire! Anzi! Se volete delle informazioni le trovate come le leggende qua anche a frozenkiss at veronapride.it Ma anche su Facebook! Anche su Facebook! Anche su Facebook! Anche sulla Rai! Su tutte le piattaforme! Sulla BBC! Baciami bene! Sì! Ecco! Ma bene! Sì! Mi aspettiamo! Ma grazie a voi ragazzi! Ma grazie di aver richiesto questa cosa! Guarda, questa è la prima volta che lo dotticavo in questa giornata! E quindi baciamoci per fare la differenza! Bene! Io a te non ti bacio! Bacio a te! Amore! Grazie! 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 Ma sì! Ma baciamoci tutti! Bacciamoci per fare la differenza! Salve nel Pia! 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 Bacciamoci per fare la differenza! Salve nel Pia! 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 Grazie a tutti.